questa è la situazione ragazzi per farvi capire piove però noi ci crediamo vero amo andrà tutto bene andrà tutto bene assolutamente ce la faremo sì sì ed eccola qui la nostra perlita look sofisticato ricercato ma semplice photoshoot professionale qui in laguna sui redcarpe veneziani devo dire che non è fortunata col tempo perché sta piovendo da ore qui in veneto io sono qualche chilometro da venezia e purtroppo il tempo non è dei migliori e invece miss più da panterona per antonella fiordelisi eccola qua tutto in tutto in nero accostamento del tutto casuale ma volevo darvi anche degli aggiornamenti sul nostro mirko qui lui non è stato invitato bene non so se è stato invitato no comunque non è andato venezia è qui che si tiene in forma bene ci vediamo il prossimo aggiornamento col gf un bacione ciao